Tre ordinanze cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Bari sono state eseguite nella notte dai carabinieri della compagnia Bari Centro a carico di tre fratelli del San Paolo ritenuti responsabili in concorso di estorsioni e rapine a danno di rivenditori del mercato ortofrutticolo comunale di Bari. Le risultanze investigative condivise dal GIP che ha emesso le ordinanze su conforme parere del PM inquirente hanno evidenziato come la gang familiare tra settembre e novembre del 2009 ha obbligato con pressioni minacce alcuni agricoltori operanti nel mercato a consegnare merce sotto costo ed anche gratuitamente per poi rivenderla in un loro esercizio commerciale. Porto Nautico e lavori del Teatro Piccini, questi gli argomenti affrontati oggi dal coordinamento delle opposizioni di centrodestra del Comune di Bari. Sentiamo cosa è emerso. Sono tre i temi affrontati questa mattina dal coordinamento delle opposizioni del centrodestra al Comune che si oppone alla realizzazione del Porto Nautico turistico sul lungomare di Bari di fronte all'Hotel delle Nazioni come spiega il capogruppo dell'opposizione al Comune Ninnicea. Noi riteniamo che Bari voglia il porto turistico, il centrodestra chiede fortemente che finalmente si realizzi il porto turistico ma chiediamo che però si abbia attenzione per quei quartieri periferici. Voglio ricordare a tutti quanti l'opportunità di un porto turistico che possa essere realizzato nel quartiere di San Girolamo, che possa essere realizzato a Palese Santo Spirito, che possa essere addirittura individuato anche nell'area di Torre al Mare. Noi non comprendiamo perché la bellezza architettonica e il profilo architettonico del lungomare debba essere tagliato in maniera perpendicolare da questo braccio. Altro argomento sul tavolo della discussione, lavori del Teatro Piccini di Bari che devono essere cantierizzati entro il 15 giugno prossimo, pena la perdita dei fondi della Regione, 5 milioni di euro, su un progetto di 18 milioni di euro complessivi, come dichiara Giuseppe Loiacono, capogruppo della lista Simeone. Mi diventa difficile pensare che entro il 15 giugno, data imposta dalla Regione, si possa cantierizzare l'opera. Una semplice riflessione, come mai dal 2004 il progetto definitivo era già stato redatto dalla precedente amministrazione di centrodestra, siamo al 2010 a distanza di 6 anni, il progetto esecutivo non è stato ancora approvato. E parliamo proprio del Teatro Piccini, si fa sempre più larga l'ipotesi di sostituire la struttura comunale prossima alla chiusura per due anni, a partire dal 15 giugno, con una tensostruttura. L'idea è di realizzarla nell'area dell'ex caserma Rossani, in forma definitiva, in modo da poterla utilizzare per altri eventi culturali, anche a seguito della riapertura del Piccini. Non mancano però i pareri negativi, la tensostruttura non è adatta al genere della prosa, ha commentato il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Grassi. Olio extravergine d'oliva, presentati oggi i risultati del primo anno delle azioni di assistenza tecnica a favore delle imprese olivicole. Il servizio. Migliorare la qualità dell'olio extravergine d'oliva, rendere le imprese del settore più competitive sui mercati, nel rispetto dell'ambiente e della tutela degli operatori agricoli, sono stati gli obiettivi delle azioni di assistenza tecnica a favore delle imprese olivicole in questo anno. Oggi il consuntivo, tracciato dal presidente di Astoproli, Domenico Zinfollino, che si ritiene soddisfatto. Abbiamo raggiunto proprio l'equilibrio giusto, stiamo già sul mercato internazionale e nazionali. Stiamo lavorando grazie a un consorzio che abbiamo costituito, Olivi d'Italia, e facciamo circa oltre 10 miliardi di fatturato l'anno, tutto di olio da terra di Bari. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il presidente della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, Francesco Schittulli, che ha ribadito l'importanza per la salute dell'olio extravergine delle nostre terre e ha lanciato una nuova iniziativa. Sarei molto lieto se tutte le scuole, a partire da quelle che in un certo senso vedono il coinvolgimento della provincia, quindi circa 200 istituti di scuole medie superiori, potessero avere, offrire l'opportunità di conoscere meglio questo nostro prodotto di qualità, e cioè l'olio extravergine di oliva, attraverso anche dei percorsi di conoscenza diretta, e quindi recarsi sugli olifici, vedere un po' com'è questo prodotto e diffondere questa cultura del mangiare bene, perché il nostro olio è un alimento sano, è un alimento anti-cancro, ma anche anti-malattie cardiovascolari, metaboliche e quant'altro. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra i 5 e i 16 gradi, venti moderati, mari poco mossi. In chiusura vi ricordo come di consueto per eventuali segnalazioni i nostri indirizzi internet www.telebari.it e www.radiobari.net. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari.